Musica Portable electronic devices may be used on board if they are in the flight segment. Maui! 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 Maui!zeee! Helios! Grazie a tutti. 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 Perché il gatto? Perché il gatto? Perché il gatto? Perché il gatto è per il suo stesso. Non è mai f***o. È solo... È un buon vita. È un buon vita. È un buon gioco. 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 Diego